Cari amici, benvenuti. Oggi vi presento la fisarmonica Castellani 3796. Questa fisarmonica è il modello studio. Ha 37 tasti dalla parte destra e 96 bassi. Per quanto riguarda i registri, ha 7 registri dalla parte del piano, con il master al centro, e 2 registri dalla parte dei bassi. Ha le decorazioni con gli strass, molto luminose. È accordata musette. Questa fisarmonica è accordata musette. Adesso andiamo a vedere le misure. Le misure dei tasti, questa è una misura di 19 mm. Per quanto riguarda invece da tastiera a tastiera, è 44 cm, mentre da fuori a fuori è 48. Un'altezza di 43 cm e una profondità di 19 cm. Questa fisarmonica ha un peso di 9,9 kg. Viene fornita con le tracolle in cuoio e la chiusura seramantice ugualmente in cuoio. Vi faccio sentire i registri di questa fisarmonica partendo dal master. Viene fornita con le tracolle in cuoio e la chiusura seramantice ugualmente in cuoio. Viene fornita con le tracolle in cuoio. Viene fornita con le tracolle in cuoio. Viene fornita con le tracolle in cuoio e la chiusura seramantice ugualmente in cuoio. Viene fornita con le tracolle in cuoio e la chiusura seramantice ugualmente in cuoio. e la chiusura seramantice ugualmente in cuoio e la chiusura seramantice ugualmente in cuoio e la chiusura seramantica. Viene fornita con le tracolle in cuoio.